La domanda per adesso è una cosa molto particolare di cui io praticamente non so. Una domanda che l'aliva da Stefano Zanetti di Portogruaro. In questo video si vede lo scoprimento di una lapide in ricordo dei caduti portugaresi nella difesa di Venezia nel 1948-1949. 800, sì. Sì, alla cerimonia non c'erano le autorità religiose e militari come invece accade quando si commembrano i morti delle due guerre mondiali. Le autorità giuste, al minuto 11 si vede lo scoprimento della lapide posta sul municipio di Portogruaro. Ma lo trovo normale nel senso che la storia veneta... La domanda è, lo trovo giusto? Prima di normale, lo trovo giusto? No, non lo trovo giusto da Veneto, lo trovo normale nel sistema italiano. Perché il sistema italiano è un sistema che si basa sulla censura e l'omertà, sulla vera storia veneta. E nel 1848 i Veneti hanno combattuto per fare la propria indipendenza per la Repubblica di San Marco. Invece viene raccontato che fu uno dei momenti del risorgimento. Invece con il risorgimento italiano non c'entra assolutamente niente. Finì che dopo un anno di isolamento, di miseria, di colera, Venezia isolata dagli austriaci non ricevette l'aiuto dei Savoia che avendo fatto i loro calcoli non ci guadagnavano niente. E fra l'altro, insomma, Cavour fino all'ultimo ha sempre considerato il Lombardo-Veneto e il Veneto in particolare come qualcosa di diverso dall'Italia. Quindi le 5 giornate, il 1848, sono cose che sono state falsificate nella storia italiana ufficiale per nascondere una verità ben diversa. Cioè quella che i Veneti non si sono mai adattati all'occupazione straniera né austriaca e poi alla fine nemmeno italiana come si è visto anche negli anni. Poi ovviamente si parla sempre di percentuali, però lo spirito indomito c'è tuttora. Grazie a tutti.